SIGLA Vi siete mai chiesti cosa poteva accadere? Sarebbe andata diversamente se aveste preso il treno invece di perderlo? Di quanto sarebbe cambiata la vostra vita se foste arrivati dieci minuti prima? Chi sei? Questo bloccatore è buono a nulla! Invece di dieci minuti più tardi? Ellen! Se solo avessi preso quel treno sarei tornata saccoli fa Molto meglio non porsi mai domande di questo genere Ora la vita di Ellen sta per avviarsi su due binari diversi Gwyneth Paltrow E Gwyneth Paltrow Nella storia di una donna che si trova a scegliere tra una vita con un uomo che ha sempre amato Jerry ti ho fatto una semplice domanda Non c'è bisogno di diventare Woody Allen E una vita con un uomo appena conosciuto Ti ho baciato? Sì, l'ho notato anch'io La Medusa Film presente Una romantica commedia su una donna Con lui ho chiuso Non è vero, sì è vero E le infinite possibilità della vita Non pensare che io... No, non l'ho pensato Sono sinceramente, sinceramente pentito For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once in my life Due vite Due occasioni E un destino che attende dietro due porte scorriboli Slide in doors Un film di Peter Howitt For once in my life I have someone who needs me Maotica fermate Scala Maotica fermandica Cheg LA Maotica fermata Maotica réf Christi